Buonasera a tutti, bentrovati a un nuovo appuntamento con Metropolis, sarà un appuntamento come tutti i mercoledì dedicato alla politica, ma lo apriamo dando spazio a un libro molto interessante, molto curioso e avvincente, è un noir ma molto ancorato a Milano e alla sua storia, questa è la copertina, ve lo faccio vedere poi ve lo facciamo vedere meglio, il titolo è Giallo Carbone, Milano 1833, Giallo Carbone più che altro, Paolo Saino è l'autore, l'abbiamo qua. Eccomi qua, buonasera. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal fatto che ho appena detto, c'è scritto sopra una trilogia ma addirittura si sta pensando di andare anche oltre magari. Tetralogia, tetralogia, speriamo di riuscirci arrivare. Tutto è nato proprio dal 6 febbraio, oggi è il 6 febbraio, sono le 18.30 esattamente 166 anni fa, il 6 febbraio 1853, ci fu una sommossa a Milano, una rivolta, una rivolta finita male, meno di mille uomini cercarono di, armati di tra l'altro di coltellacci, di pugnale, di falci, di roncole, cercarono di prendere il sopravvento su circa 10.000 soldati austriaci, non è difficile immaginare come è andata a finire insomma, la cosa era stata ben poco preparata, i capi erano dei personaggi che magari un nome almeno ce lo ricordiamo sicuramente, c'era Piolti dei Bianchi, Brizzi, Fonte, ma c'era Vigorelli, ecco, Vigorelli era uno dell'organizzatore, era il cassiere e questi rivoltosi, meno di mille persone, erano organizzati in compagnie di circa 100 persone, una per l'altra e addirittura c'era la compagnia A, erano i Facchini, la compagnia B erano i Falegnami, C erano i Calzolai, eccetera, eccetera, quella forse più interessante era la compagnia LM, Libertà o Morte, che fa un po' paura. Beh però è uno di quei, di quelle grida che abbiamo sentito non solo a Milano insomma Assolutamente, si riunivano a gruppi nelle osterie, anche questo era un elemento specifico di quel tempo, all'Osteria dei Monti di San Pietro, dei Vescovi, dell'Osteria della Pace, la Cassola presso la Porta Tosa, quindi una cosa proprio... Tra l'altro un'altra cosa curiosa del volume Giallo Carbone e non solo di tutto questo lavoro, che è fatto con una passione per la storia, come avete notato, incredibile, è che l'Osteria ad esempio, tutto quello che accade dentro è anche quello che va sul tavolo, quindi le ricette sono ricette che sono frutto di uno studio da parte di Saino, è tutto molto ancorato a cose storiche insomma. Infatti direi che i tre gialli, che forse diventeranno quattro, ambientati a Milano sempre, il primo questo giallo carbone, che fa riferimento alla carboneria chiaramente, 1833, il successivo sarà giallo erba, che ha a che fare con l'erba dei prati e con la città di erba, 1843, il successivo sarà giallo waltzer perché si svolge nel 1953 anche in parte a Vienna, quindi Vienna waltzer insomma, ma tutti questi e anche successivo speriamo di riuscire a farlo, hanno come dire una treccia rossa piuttosto che un fil rouge, una treccia rossa costituita da tre fili, uno è la Milano dell'epoca, le carrozze, i cavalli, le osterie, cosa si mangiava, le persone che si davano del voi, come si vestivano eccetera eccetera, tenta io a ricostruire quella Milano. Il secondo filo della treccia è questi tre personaggi che saranno sempre presenti in tutti e tre libri. Uno di questi è un commissario che in realtà è un altro degli ancoraggi alla storia perché è esistito davvero questo commissario. È esistito davvero, è esistito davvero, anzi è stato uno degli ufficiali di polizia forse più longevi in servizio dalla metà degli anni venti fino al 1853 passando tutto attraverso i vari step di carriera fino a diventare commissario superiore che era un'innomina imperiale quindi vuol dire una persona fidata evidentemente. Poi c'è anche un altro personaggio che ha un cognome importante che è Guenzati che abbiamo ospitato Gigi Ragno che adesso è il proprietario dell'azienda che Guenzati cedette ai suoi dipendenti, sostanzialmente il dipendente più meritevole, è una bella storia anche quella che abbiamo già raccontato. L'ultimo filo qual è? L'ultimo filo è il risorgimento perché in realtà questi tre libri sono un po' una scusa per raccontare del risorgimento. Sono un appassionato, non sono uno specialista, non sono un professore universitario ci mancherebbe ma ho speso molte ore sui libri e nelle biblioteche, l'archivio di stato eccetera. Quindi diciamo mi sono fatto una cultura su questo e allora mi sono detto ma come si può fare a raccontare il risorgimento senza essere noiosi? Attraverso dei romanzi gialli che però dentro tentano di ricostruire l'ambiente, i rapporti tra i vari soggetti e alcuni elementi del risorgimento. Per esempio accendo soltanto al fatto che nel 1833 l'anno di giallo carbone non è che fosse successo qualcosa di particolarmente importante, però era un momento di passaggio tra il modello ipotizzato dei carbonari in ambienti chiusi delle sette che non parlavano tra di loro, addirittura con obiettivi divergenti e i adepti della giovane Italia, primo partito che si era formato, che invece era aperto a tutti e molte persone aderirono. Insomma è un passaggio notevole questo dal punto di vista politico è uno step importantissimo. Si trova anche questo in questa ricostruzione storica, vediamo la copertina dalla pagina Facebook di Paolo Saino, eccola qua, giallo carbone, questa è la copertina, lo troviamo su Amazon e anche in qualche libreria via Tadino ad esempio ma ce ne sono un altro paio che dice adesso Saino prima dei saluti. La libreria del domani vicino a Piazza Cadore è la libreria militare di Milano. Bene, grazie per essere stato con noi, ovviamente consigliamo vivamente questa lettura e in attesa di vedere anche gli altri capitoli di questa saga. Arriveranno a breve. Bene, grazie davvero alla pubblicità e poi la politica qui a Metropolis.